Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Ho voluto fare, spinto un pochino dall'ispirazione del momento, ho voluto fare un altro video su Elder Scrolls Online per parlarvi un pochino di quello che mi sta dando questo gioco nell'ultimo periodo. Non ci ho giocato tantissimo, lo vedrete anche dal livello, ma questo gioco non finisce di stupirmi perché prima di tutto mi sto godendo la traduzione degli Italian Scrolls Online che hanno tradotto praticamente la quasi totalità del gioco, come ho già detto nella live che ho fatto qualche tempo fa, 98,5% di traduzione, 80% di revisione, tuttavia manca la traduzione della nuova espansione e infatti il motivo per cui non la sto giocando mi sto godendo tutto quello che viene prima. Voglio un pochino parlarvi del fatto che è un gioco davvero incredibile dal mio punto di vista, ma voglio identificare subito qual è il giocatore tipico per questo gioco. Beh, sappiate che se cercate qualcosa un po' alla sandbox dove potete girare e fare quello che volete, non è assolutamente il gioco che fa per voi perché è un gioco estremamente narrativo. Non che non vi lasci la libertà di agire perché la libertà ve la lascia eccome, potete fare le diverse classi e se siete degli amanti di Skyrim, Morrowind e Oblivion, questo gioco sicuramente che fa per voi perché ha lore da vendere. Beh, sappiate che ero qui, dovevo andare a fare una quest qua in alto, tuttavia mi sono trovato in questa zona che ho scoperto essere una delle zone adibite al crafting dove ci sono le varie stazioni. Da quello che ho capito poi potrete averle, se avete una casa, anche in casa vostra comprandole, ma qua potete creare, partono le varie, diciamo, possibilità di fare smelting di materiali, di distruggere le vostre armi armature che non usate e raffinare i vari materiali, tra cui la pietra, scusate, il ferro, creato gli ingotti, insomma. E, rapito, diciamo, da questo panorama veramente molto molto bello, mi sono trovato a voler vedere che cosa fosse questo edificio qui. Beh, sono arrivato su, per farvi capire come deve essere giocato questo gioco e come l'ho giocato io e come mi ha sorpreso. Sono arrivato qui e ho trovato questo, diciamo, questo imperiale imprigionato. Non si poteva fare nulla, i personaggi intorno non mi dicevano nulla, allora ho cominciato a vedere che cosa ci fosse nell'altra casa e qui ho incontrato un argoniano, perché questa è una terra comunque argoniana, magari un po' minacciata dagli imperiali che, pari, non vogliono fare nulla. Ho conosciuto un tizio e mi ha detto, guarda, potrebbe creare dei problemi se quell'imperiale l'ha imprigionato, venisse ucciso, come vogliono fare. Quindi, guarda, io vado a fare delle investigazioni per conto mio, mi ha spiegato un po' com'è la situazione attuale tra gli imperiali e gli argoniani. E gli argoniani sono quei, un sorta di lucerto loidi, chi conosce la lore di Elder Scrolls sicuramente lo sa. L'ora da vendere ce n'è proprio veramente tanta in questo gioco. E, in pratica, io adesso mi sono trovato involontariamente in una quest che voglio fare, ma tra l'altro non aspettatevi, ma questo l'ho già detto in live, ma magari è passato un pochino in sordina, non aspettatevi la quest dove due dialoghi e fine. Ci sono quest secondarie con finale multiplo che vi danno magari una ricompensa piuttosto che un'altra e fanno finire la storia in quel modo. Mi sono ritrovato, a quest che ho preso qua in un volantino, una tizia che voleva trarre ispirazione dalle avventure nel mondo per scrivere un romanzo d'amore, mi sono trovato in una quest da due ore, secondaria, con un finale multiplo, dove ho recuperato degli oggetti, dove ho fatto dell'esperienza, insomma, ed è estremamente narrativo. E ve lo godete appieno perché lo potete giocare in italiano. Ora, la valutazione è questa, il gioco è fondamentalmente questo, cioè vagate per il mondo, potete andare, la zona si autolivella, quindi potete, decido domani di andare a Vardenfeld e giocarmi la parte di Morrowind, in pratica l'ambientazione di Morrowind. Lo faccio e le quest si adattano al mio livello, mi faccio la mia lore, mi faccio le mie quest, insomma. E il dubbio è, ma il gioco ha da offrire parecchio, conviene comprare le espansioni? Beh, diciamo che il gioco di base vi dà già la possibilità di fare i livelli con il gioco base che comprate. Poi, se comprate le varie espansioni, avete contenuti aggiuntivi, ad esempio, a me piacerebbe, vista la mia Nightblade, lama della notte, vorrei comprare o la gilda degli assassini o la gilda dei ladri. Nel gioco ci sono quella dei maghi, dei guerrieri, che sono free. Compararmela perché? Perché così posso scalare i ranghi di quella gilda lì e avere magari i miei vantaggi. E' utile il discorso dello shop, delle corone, delle varie espansioni? Sì, c'è l'ESO Plus, che vi consente di avere tutto. Quindi, tutto quello che voi vedete in termini di, magari, capitoli di DLC, missioni aggiuntive e così via, vabbè, qua differio solo quella della casa, ma non la voglio fare adesso, avete tutto gratuito. Cioè, ovviamente, non le abitazioni, quelle cose che anche su Fallout 76 si compravano. Non mi è ancora chiaro se sarà possibile comprarle anche a soldi di gioco, o solo così. Però, sappiate che quando voi fate l'abbonamento, l'abbonamento, l'esatto importo, quindi 12,99€ di un mese, vi viene riportato pari pari anche come corone. Quindi, in pratica, è come se voi steste acquistando delle corone. Cioè, in realtà, non è che spendete e poi vi comprate anche le corone. Vi danno l'equivalente di quello che avete speso in abbonamento in corone ogni mese. Quindi, mi sembra molto onesta questa mentalità qui. Poi ogni tanto vanno in sconto, insomma, trovate varie cose. Ha senso, sì. L'ESO ha senso, l'ESO Plus ha senso, perché vi dà accesso anche al materiale, alla borsa per i materiali. In pratica, quando voi lo fate, avete questa borsa dove va dentro tutto quello che scavate, che raccogliete in termini di materiali di crafting, ma nel momento in cui non siete più abbonati, non è che si frizza, non potete più depositare, ma potete prelevare. Ovviamente, prelevando, va a occuparvi peso in inventario. Ma è veramente incredibile, secondo me, pensare di giocare un gioco come Morrowind, Skyrim, Oblivion, con quindi la possibilità di usare le gemme dell'anime, intrappolare le anime dei mostri che uccidete, infonderle nelle armi. E questo è solo l'inizio, perché potete craftarvi mobili, armi varie, semplici, piuttosto che cibi, pozioni. E' veramente interessante. Ma soprattutto, se amate comunque la lore, amate la storia, vivere tutto come fosse una vostra seconda vita. Mi aveva un pochino demoralizzato il fatto che le case sembrassero abbastanza inutili, perché fate la casa. Allora, non è questa la mentalità con cui si affronta questo gioco, perché, è vero, la casa non avrà quell'utilità... Oddio, potete metterci le stazioni da lavoro, quindi ci lavorate, potete metterci le casse, però vedete che la maggior parte delle cose non sono oggetti dove potete mettere equipaggiamento all'interno. Spesso ne trovate alcuni, sono piuttosto rari. Questo è il primo tronco che trovo, tra l'altro, da tagliare. E ho sbloccato i raccoglitori di legno, adesso vi parlo anche di questo. E' vero, ce ne sono pochi, soprattutto magari quelli più grandi costano corone, è vero. Però voi state vivendo una vita nella lore di Elder Scrolls, online con altra gente. E quindi avere la casa, lo spazio vostro che vi arredate, vi fate la vostra immagine, è bellissimo. Ma lo fate anche in Final Fantasy XIV? Nel senso che non è che abbia questa utilità, sono bellissime da vedere. Però qua, cavolo, avete una casa tutta vostra, la pagate e vi mettete dentro tutti i trofei, tutte le cose che recuperate in giro, che vi craftate e comprate. Poi un'altra cosa che mi aveva un pochino demoralizzato era il fatto della mancanza di case d'aste. In realtà ci sono, e sono legate alle gilde, ci sono gilde a cui potete unirvi e semplicemente usufruite del mercante per poter vendere le cose che create voi. Non ho ancora capito bene la meccanica, però questa è... Cioè, pensate anche adesso, mi sono arrivato qui e ho trovato questa pozza. I mostri tecnicamente si livellano al mio livello, quindi non sono mai, diciamo, in zone di alto livello. E questo non pregiudica alcuna esperienza, perché non c'è una zona in cui non potete effettivamente andare. Poi ovviamente in ogni zona fate attenzione a dove vi trovate, perché... Capitano cose di questo tipo dopo, dove iniziano a seguirvi eserciti interi di nemici. Adesso appena riesco, tra un po' si accorgeranno di essere troppo lontani della loro palude, torneranno indietro, spero. Spero, adesso dovrebbero andarsene, spero arrivando alla strada, spero se ne vadano, perché andate via. Non ho messo neanche le pozioni nei tasti veloci. Allora, praticamente, che succede? Prima io ho scavato, ho tagliato un albero. In sintesi ve la ritrovate qua nell'elenco delle abilità. Nell'artigianato avete la falegnameria, che ho sbloccato, che vi permette... Allora, quando voi livellate, prendete dei punti, in questo caso livello 6. Ogni livello li andate a sbloccare direttamente premendo F. vi dice cosa guadagnerete al prossimo livello. Adesso qua non è questo, è questo. Vedete, il prossimo livello 6 prenderà un punto a tributo e un punto abilità. Quindi mettete un punto a tributo e guadagnate un punto abilità. Un punto abilità lo potete mettere dove volete, a patto che siate del livello giusto. Nel senso che se io volessi prendere questo, devo avere falegnameria 3. Come faccio a far salire falegnameria 3? Questo è un po' come funzionava anche in Skyrim. in Morrowind soprattutto. Praticamente io salgo di livello facendo mostri, prendendo esperienze. L'esperienza è una cosa un po' inusuale in un gioco degli Elder Scrolls, perché di solito non c'è, ma qua nell'online c'è. Io uccido mostri, faccio quest, salgo di livello. Sblocco punti abilità. Le punti abilità li vado a spendere. Ad esempio io ho la mia arma, che è a livello 7. A livello 14, quindi continuando ad usare l'arco nelle mie quest, avrò punti, potrò spendere un punto per sbloccare questa abilità, quando questa abilità in sé sarà a livello 14. Quindi non è detto neanche che io sia a livello 14 quando questa sarà 14, perché calcolate che io adesso magari uso l'arco, uso l'arco, lo uso tanto, faccio tante cose, ma il livello non sale tanto, perché quello che faccio magari non è molto remunerativo, mi sale l'arco. Poi avete possibilità di prendere punti, frammenti celesti che sono sparsi in giro, per avere un punto in più abilità. Una volta che ne avrò trovato i tre, ne ho trovati solo uno, avete un punto abilità in più. La cosa bella è che nella mappa avete, in ogni regione che fate, avete un elenco delle cose che avete scoperto, le storie. Queste sono le storie principali, ho fatto un segreto mortale e adesso, vedete, abbiamo un avversario inaspettato e sono piuttosto lunghe. Questa è tutta la campagna. Qua invece abbiamo i santuari da scoprire, le grotte, gli esploratori, in pratica andiamo ad esplorare le grotte. Qua abbiamo i punti di interesse, abbiamo le avventure, non le avventure, i luoghi suggestivi, quindi molto belli da vedere, fatti a mano, veramente belli. Postazioni dove craftare, e quello che vi ho fatto vedere prima era uno di essi, il primo che ho scoperto della regione. Abbiamo i dungeon pubblici, che a livello 10 si aggiunge il dungeon finder, quindi potete unirvi ad altra gente. I boss del mondo, è quello dove siamo passati prima, dove c'era la palude, che era un boss del mondo, ma non c'era nessuno da me la mano. I frammenti celesti, avete i libri da leggere, cioè c'è veramente il mondo. E ovvio, dovete giocarlo con la mentalità, non dovete forzarvi a avere questa mentalità, perché se no non fa per voi, però col fatto che progredite col vostro personaggio, che è online, che tutti possono vedere, con cui tutti possono parlare, ma non è quella classica cosa dove avviate mille attività alla Black Desert, o allo stack dove livellate e create, cioè è un buy to play, con un orientamento comunque a una spesa, diciamo di abbonamento, per avere praticamente tutto, e vi dà tutto. Adesso non so se l'ESO Plus vi dà anche l'ultima espansione, di sicuro vi dà tutto quello che normalmente invece è acquistabile a parte, ovvio, potete anche decidere di non fare l'abbonamento, acquistare tutto, ogni singola cosa a parte, è vero, quello si può fare. Non so se è tutto tutto, però le utilità, vediamo, potete prendere, no, questi sono oggetti, fornitura, pacchetti, kit di alimentazione a corona, respects, questi vabbè ci sono anche in gioco, più raramente però ci sono, e offerte speciali, capitoli, features, quindi tutto quello che c'è di scontato, ad esempio vi comprate questo, non so cosa sia, però generalmente è un set di armature che potete sbloccare ed equipaggiare e mostrare ad altra gente, poi qua in chat vedete che c'è gente che vende roba, bisogna fare soldi perché di soldi ne servono tante, nel frattempo siamo arrivati qui, che è un riparo del contadino, non so cosa sia onestamente questo posto, e qui si incentiva tantissimo anche l'esplorazione, perché qua potrebbe partire magari che so, una quest o un qualsiasi cosa, quindi ha senso più di ogni altro gioco andare a parlare con la gente, soprattutto perché appunto io spero che questi ragazzi non continuino il lavoro di traduzione, perché ve lo godete completamente in italiano, siamo entrati qua, e c'è quella stessa sensazione che c'era in Skyrim, ad esempio, di esplorazione e di scoperta, ho trovato un libro che posso leggermi, guardatelo, l'avete visto in italiano, quel senso di esplorazione che c'è in giochi di questa serie, quindi arriviamo qui, qui scopriamo magari che c'è stato un delitto, parte una a questa secondaria, qua non me l'ho ancora scoperto, quindi probabilmente c'è qualcosa, qualche luogo in cui devo arrivare, qualcuno con cui devo parlare, e poi qua si troveranno ogni tanto anche delle case, da poter comprare, ovviamente potete attaccare chiunque, ma in quel caso vi partirebbe il fatto che siete dei disonesti, e poi dei criminali, io ho cercato di scassinare una porta così, io cliccando pensando di aprirla, è partita il minigioco dello scassinamento, ed è uscito che sono diventato disonesto, sono andato a cercare una guardia, la guardia in modo educato, quindi senza armi alzate, mi ha detto che avevo sulla testa una taglia di 5 monete, e se volevo pagarla, io avevo anche l'abilità, la possibilità di corromperlo, e dirgli ma no dai pagala tu per me, ho pagato, sono tornato onesto, e così via, questo è solo un vecchio ricordo di Skyrim, anche se in ambientazione non c'entra niente, uso l'abilità, delle frecce, per colpire in gruppo questo, questa invece la posso usare, fa un bel danno, doppio clic con sul tasto S, faccio la rotalata indietro, ma ho già finito la stamina, quindi devo ricaricarla, per quando gli vado molto corpo a corpo, l'abilità dell'assassino, che gli fa questo, il combattimento è tecnico, tecnico non banale, per quanto non ci sia molto, questo è un po' un difetto, non ci sia molto un feedback del danno, ora abbiamo oro, ma al tempo stesso può essere utile andare a magari farmare dei mostri, che ci danno un determinato materiale, quello cos'è? è una spriggan, poi magari voltate l'angolo c'è una grotta, cioè è questo il bello, e calcolate che avete una marea di zone, questa, c'è questa, queste sono Votgar e Ravenspire, cioè veramente pian piano stanno aggiungendo tutta la zona, la zona centrale invece dove c'è la città imperiale è una zona prevalentemente pvp, potete fare quello, non vi va, non fate il pvp, ci sono queste isole qui, cioè Summerset che è un'espansione a sé, possiamo andarci in qualsiasi momento, perché c'è il teletrasporto, io clicco, pago e arrivo là, ma qua cosa faccio? Posso parlare con i primi NPC che trovo, e parto con le quest di questa zona, con i suoi obiettivi, e mi faccio quello, cioè non c'è correre dietro a nessuno, non c'è fretta, non c'è l'esigenza di correre, potete poi mirvi alle gilde per fare i dungeon comuni, insomma dove ottenete il vostro equipaggiamento, di base però resta un gioco assolutamente narrativo, vi dico anche questo, io lo sto giocando appunto in italiano, grazie alla traduzione, ma se non volete, se non volete crearvi problemi, non avete voglia di scaricarla, conoscete l'inglese, o avete il dubbio, magari trovo cose in inglese e le capisco, l'inglese è tra i giochi che ho giocato, con un inglese forse più comprensibile, ne ho provati di veramente improponibili, dal livello di inglese, ma questo gioco è veramente fattibile, infatti prima di accorgermi che dovevo attivare i sottotitoli, quando gli NPC parlano tra di loro, ed escono proprio sotto in italiano, io ascoltavo solo in inglese e capivo, addirittura alcune cose proprio lo dicevano, e capivo subito al volo che cosa dicevano, e lo andavo a vedere, perché sembrava una cosa interessante, quindi non preoccupatevi in generale, questa è la casa di Maelle, magari regate anche una quest, non lo so, però qua in casa potete esplorargli la casa, ma soprattutto se trovate oggetti potete rubarli, ma a quel punto se saccheggiate, non avete la possibilità di venderli dove volete, ma dovete andare nelle città che hanno, nelle fogne, la gilda dei ladri, la gilda dei ladri è a sua volta un DLC che è molto interessante, o lo comprate, pagate magari 15 euro il DLC, o vi fate l'esoplasse, ce l'avete, e ve lo fate, ve lo spolpate, insomma, merita l'acquisto, beh, se il gioco vi piace, vi piace la mentalità, avete adorato, i Skyrim Morrowind Oblivion, e lo volete giocare anche con amici, o da soli, ma con la componente poi di social, di cooperazione con altri, per i boss, prendetelo a occhi chiusi, ma, e magari, magari, vi piaceva anche la mentalità, la logica di Fallout, ma non amate il post-apocalittico, ecco, questo gioco per voi, ma a livello, probabilmente in video non rende, ma a livello di ambientazioni musiche, quando camminate nelle parterie, le varie ambientazioni, sono bellissime, sono fatte veramente a mano, quindi, ovvio, nessuno mi ha pagato per dire questo, l'ho voluto fare proprio di getto, questo, questo video, perché, mi riescono davvero meglio i video, quando io sono veramente, veramente preso da qualcosa, o comunque, qualcosa che mi ispira, e di cui voglio parlare, per magari, diffondere una conoscenza, come sempre disinteressata, di qualcosa, quindi, ora, aspetto il vostro parere, perché io, vi dico la verità, ho visto diversi video, perché volevo informarmi un pochino, su quello che era questo gioco, alla fine, vabbè, l'ho fatto da solo, l'ho fatto da me, spero di avervi chiarito le idee, magari anche più di altre, magari meno, insomma, fatemi sapere, se la mia, la mia opinione, vi ha, vi ha reso l'idea, se poi alla fine, vi ha magari convinto, oppure vi ha convinto, a non comprarlo, perché, ovviamente, è uno dei giochi più giocati, questo, ma, secondo me, perlomeno anche in Italia, è passato, passa costantemente, piuttosto in sordina, infatti, anche per l'uscita del nuovo DLC, nessuno ne ha parlato più di tanto, visto, c'è qualcosina, ma esce l'espansione di WoW, c'è Twitch stracolmo, di questo, no, fatemi sapere che cosa ne pensate, e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi, e ciao ciao!